un'altra cosa ma io ho fatto intanto ovvio lo sciottano mostri al sbagliato perchè messo il raid per esempio ma vede che te sei da lì e quel posto c'è stava il cala e invece no co 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 allora signori bentornati qui oggi sul canale di zlaptor purtroppo senza webcam ma siamo qui pronti per la nostra destiny one wake challenge come cazzo la volete chiamare in cui per una settimana avremo solamente video di destiny e vabbè per sì video di destiny e magari c'è un putto qualcosa però comunque avrete i video su destiny su questo che è un nuovo aggiornamento e partiremo oggi col cala il raid lo faremo a presto e quindi vi porterò diciamo tutto quello relativo alla roba che stanno mettendo passo dopo passo andremo insieme a scoprire questa nuova espansione il cala è tanix e i modificatori mo ve li mostro e mo riabilito anche la voce a loro perchè ho dovuto fare l'intro e stavano parlare un po' troppo ci stavano tutti e tre le braci e i nemici c'hanno più scudi per il resto abbiamo le super prende sempre come su pandemonio quindi rientro ora qui stavo facendo l'intro del canale l'intro del canale tutti i tizi si shottano ci shottano con tre colpi l'intro anale? l'intro anale chi cazzo è che è morto subito? io l'ho shottato comunque tanix è proprio da infamico metterlo come cala lo provo a fare una cosa ma dite che mi lascio la bolla così c'è sempre uno scudo almeno perchè sennò ci shottano con gran manetta ma perchè sennò ci shottano secondo me metto la bolla fissa con benedizione tanto lo sei c'ho sempre torretta tesi va avuta si vabbè tanto se c'hiamo sempre queste cose io inizio a spammare oh oddio ho trovato lo spettro con il nome di filo io ce le ho solo di me quindi potete anche distruggerle tranquillamente ma c'è uno spettro che si chiama spettro formaggino cioè oddio lo spettro è bello ma guarda come è bello che la torretta sta sparando al tuo cadavere fly grazie ma voi avete fatto il raid con tre titani con la bolla vai avanti solo quelle bolle aspetta che c'ho sempre io il coso io ho granate tiro granate che cacchio faccio vai vai ma tiragli è pure qualcosa di più consistente ma sporra ma io uccido con questo ma porca troia ma eh mi fate sparare col cecchino conta non ci capisco un cazzo quando miro col cecchino mi sparano in 700 perché io li potrei stunna per sempre con la mia bolla e il saint e io che la volevo fatta solo con cala si vai 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 poi quando tanix te shotta la mandle ma voi l'avevi mai abbandonato su corte no eh si non c'ho altro da fare ma oggi sta pure il dlc di final fantasy giusto e non lo fai ci avete danni bonus tanix è perfezionato ma si chiamava così pure prima si è vero ci ho mai fatto caso allora vai sparate sparate tanto c'ho dei bonus tutto c'ho il bambino tutto c'ho il bambino ah ah vabbè immune cazzo gli sparamo niente la nave è rimasta sempre uguale ci hanno aggiunto solo due cosi di SIVA come è possibile tacci loro il blocco alle comunicazioni SIVA ovunque sì abbiamo gli schemi già fatti li posizioniamo ovunque 800 mega 700 so di SIVA messa qua e là ma secondo me questo video si chiamerà SIVA ovunque come? dove te andiamo iduis? iduis io non mi fido di te l'ultima volta ho perso la vergilità anale che t'ho seguito ok abbiamo fatto bene a seguirti però diciamo che sì è vero te shottano ma con sta cosa dei super cioè li distruggiamo infatti sì è una cazzata granate per tutti ora partirà la sfida sul mio canale facciamo il boss solo con granate vai per me va bene non so pure per me cioè guarda aiutati oh di erro regà di erro di erro beh ammetti che te shottano scusa no non mi shottano però rompo nel cazzo ok è andato andiamo a fare camminatore siamo molto attenti camminatore ah nessuno nessuno allora praticamente cioè lo stregone è rianimabile cioè se rianima una volta ogni 10 secondi ma che è esattamente stregone sempre oppi e io gli metto la bolla davanti ai twist così non usavo pistola di cazzo l'ho fattuto chi me l'ha fattuto il coso bastardo no no l'ho preso io quello era il mio giallo che cosa sono stato stuprato analmente e mi è piaciuto devo dirvi la verità tanti a quelli che esplodono raga se mi twist è morto per animarmi ti ringrazio ti ringrazierò per questo ho shottato il camminatore mi so sacrificato ho shottato il camminatore con un colpo bravissimo sei un fenomeno il colpo del cannone magari l'hanno messo apposta che cazzo non lo sai magari era made in china chi è che ha sparato al camminatore morto questo si chiama necrofilia necrofilia quando lo fai aspetta spesso aspetta ma andando aspetta che io mi metto il falcominchia falcominchia ma che falcominchia muore subito tanto dai ecco alla eh mo fly morto tra 3 2 1 beh fly morto dov'è magari mori ah mortacci tua la tanica di benzina tanix a me non fa niente eh ho capito a me mi ha sparato un groppa oh lasciate tutto dritto in fondo sul coso in fondo alla tangenziale svoltare a destra dopodiché in versione a du eh vabbè l'ha sparato solo a me grazie vabbè gira come uno stronzo ma che gira io faccio fuori la siva ah fly che mare vediamola in diretta sto guardando la sua visuale dov'è il tizio? vuoi che seguite il video commentate se sopravviverò o no ecco ciao fly ah io vado in giro incite la siva e poi stiro male oh che regate dei stronzi non mi fate fare kill io non ho le granate ma che sciottano con 4 colpi ditano voi scusa ma perché andiamo lì ma non è meglio sta qui ah è vero se chiude se chiude la famo fari si va si va tra ne uno fatto fatto ok se può sparare dai mori è ignato di friggio la siva vai vai uno due stoppia a cazzotti guarda quanti sono mi stoppia a tutti a cazzotti può accadrare se vuoi diventati un film del stallone ma non è un film del stallone il problema è che sciotta un film che è il team cazzo cial la squadra per fare ride del stallone ultimo giro dove ti distruggi cose eh gli sto a distruggere un attimo tanto sta sparare i twist quindi bravi i twist fai da esca ora sta sparare pure a me buttaci tua ok eeeh no ancora no manca uno di si vado sta fly ce ne stanno due ok è andato anche là sopra al coso ce n'è uno secchia ce n'è uno ma dove? non lo vedo è là davanti a destra no lo stiletto esplosivo no davanti a destra ok l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato ok l'avevo distrutto l'hai spostato dietro alla tua luce mia ok ok ammazzato con l'ultimo cosmo let's say gooo e io mi vio il cannone no lo stavo prendendo io boom chiave universale cosa del registro ho fatto e sai che ti dico io asprego qua sti gran cazzi no ho preso il cannone ho trovato due marchi uno per il cacciatore no due cosi il cacciatore ma che merda però il cacciatore è il quattrocento non ci faccio niente ma io tutto a quattrocento 399 ma sai che lo p è il quattrocento io ho un nome e finisce con un nove 3959 ma invece no ho un mantello però sto solo a quattrocento ma a quattrocento che merda che merda noi signori ci vediamo al prossimo video sempre su destini sul canale quindi qui da la compagnia bella è tutto a domani ciao potete salutare però ho detto ciao che cazzo bello bello cosa vuoi chi ti ha morto sto sentendo a domani a domani a domani Grazie a tutti.